Assolutamente lo facciamo, dall'europeo tu sei giovane. Grazie, grazie mille. Anche perché, insomma, come qualcuno mi ricordava, di averci qui oggi, per la nostra regione. Mia moglie, con il cuore del Perugino. Ma c'hai qualche esperienza nel Perugino? Sì, un anno. Il scatto dei mondiali, quello vincente, che riportiamo a casa, è il quinto titolo mondiale. Non pensavo, cioè a Foligno, veramente una... E' una tisola, esiste, insomma. E' un'unica spada di qui. Allora, prima dell'allenamento, verso l'ora di pranzo, due ragazzine... Grazie. 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 Grazie.